Signorina Scott, ci sono delle circostanze per cui... Beh, Giorgia, bella, ti stai guardando? No, 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 no... Ma perché ti vede ancora a queste paranoie ogni giorno? No, ma è bellissime. No, ma dai, almeno una storia d'amore me la fai vedere. No, non te la faccio No, stai zitto Allora, c'è la partita che inizia tra 5 minuti No, lasciami te E' finito, dai Sempre ste partite, mamma mia Mi dai 5 minuti Posso guardare la tele 5 minuti? Guarda Ti mori qua Questo è finito Ti voglio dire, è pazzo a lei Grazie Mi chiedevo solo Se il signor Tucker capisse di essere Non guarda Non guarda Non guarda Non stiamo scherzando Ma questo è un finale di un film Qua nessuno sta scherzando, Giorgia Qua non sta scherzando proprio nessuno Quindi Se non ti piacciono queste cose Lo dici e te ne vai Perché Voi che siete insensibili Come fa a lasciarlo? Con quegli occhi così Che l'ha guardato negli occhi E mi ha detto quelle cose Dai Ma tu stai scherzando che piangi Io non sto piangendo Eh? Ah no? No E questi? E vai! Basta! E sei insensibile che fai queste cose Ma questo non è un film Tu parli d'amore D'amore non sei niente Hai capito? Per fortuna Per fortuna Per fortuna Per fortuna Per fortuna Grazie per la visione!